Prima di calcare le scene si era laureato in giurisprudenza nel 1963, facendo alcuni anni di praticantato. Ma nel 1966 un casuale incontro con il regista Carlo Lizzani gli fece intraprendere una carriera cinematografica particolarmente intensa e densa di ruoli memorabili, fra i quali Parker nell'ottimo. Continuavano a chiamarlo Trinità, 1971, di Enzo Barboni oppure Pierre. Il maggiordomo rintronato, nei due super piedi quasi piatti, 1977, sempre diretto da Enzo Barboni. Attore calibrato, estroverso e sempre gradevole, proseguì la sua carriera sino all'inizio degli anni 90 quando, forse in mancanza di ingaggi abbastanza importanti, preferì ritirarsi dalle scene dedicandosi con maggiori interessi al suo studio legale. Nel centro di Chiavari, è scomparso nel 2014 all'età di 75 anni.